Buongiorno a tutti, sono Chiara Ferrari, dottoranda di sociologia presso l'Università Cattolica di Milano. Oggi insieme ai miei colleghi la professoressa Carrà e il dottor Moscatelli presenteremo i risultati di un progetto di valutazione di un intervento finalizzato a contrastare la povertà educativa minorile. La premessa teorica in cui ci collochiamo si basa su tre assunti. I stili genitoriali positivi, coesione familiare, una struttura familiare stabile possono essere fattori protettivi per i bambini rispetto agli effetti della povertà educativa. Figure educative esterne alla famiglia sono risorse positive per i bambini e che il benessere dei minori è connesso da alcune condizioni delle loro famiglie che sono state classificate con cinque principi che responsabili delle politiche e degli operatori sociali devono considerare come punto di riferimento per la pianificazione e la pratica delle loro azioni. Questi cinque principi sono alla base dell'approccio del Family Impact Lens che se applicato ad ogni livello, quindi dalle policy fino agli interventi, dovrebbe garantire una ricaduta positiva sulle famiglie e dunque sull'intera società. Nel concreto questi cinque principi cosa sono? Fanno riferimento in particolare alla capacità 1 di responsabilizzare le famiglie nel portare a termine i propri compiti familiari, in secondo luogo quindi il principio della stabilità invece fa riferimento alla capacità di accompagnare le famiglie durante i momenti, durante le loro fasi critiche. Il terzo principio rimanda alle relazioni familiari e quindi al promuovere le competenze di ogni membro al suo interno. Il quarto la diversità, quindi valorizzare le diversità da quelle economiche a quelle del ciclo di vita, a quelle culturali di ogni nucleo familiare. Il quinto principio rimanda alla dimensione del coinvolgimento delle famiglie all'interno delle politiche e degli interventi. A partire da tali principi il Family Impact Institute ha avviato una serie di attività che si sviluppano su tre livelli. Il primo potrebbe essere definito provocatorio in cui si cerca di promuovere tra i destinatari dell'intervento della politica un cambiamento di prospettiva attraverso i cosiddetti starters che sono fondamentalmente delle domande stimolo per facilitare la discussione o la creazione di maggiore consapevolezza rispetto a particolari temi, sempre alla luce dei cinque principi del Family Impact. Il secondo livello di applicazione del Family Impact consiste invece nella dimensione di operalizzazione dei principi che quindi vengono tradotti in indicatori di valutazione, quindi in checklist, adeguati all'oggetto a cui verranno impiegati. Il terzo e ultimo livello è quello più analitico e di ricerca, quindi la Family Impact Analysis, ed è finalizzato a svolgere una riflessione più critica sull'esistente per avviare quindi poi una discussione in merito a come una politica o un intervento possono in un qualche modo essere ripresi in maniera più conforme ai cinque principi. Il progetto Porta Aperte è un'applicazione italiana del Family Impact Lens sul tema della povertà educativa che si è avvalso delle Family Impact Checklist come strumento di valutazione del progetto stesso. Per la realizzazione del Family Impact Lens, gli operatori del progetto sono stati accompagnati in un processo riflessivo di valutazione e autovalutazione che ha visto la combinazione e l'utilizzo di diversi strumenti del Family Impact Lens, in particolare si è proceduto nel seguente modo. Nel primo anno è stata fatta una survey preliminare coinvolgendo tutte le famiglie per rilevare anche alcune dimensioni come per esempio quella del capitale sociale. Il secondo anno si è proceduto con la realizzazione di Focus Group con gli starter, sono stati coinvolti 50 partecipanti di diverse appartenenze quindi dagli insegnanti delle scuole materne, all'aselo nido fino appunto alle parrocchie, alle psicologhe e gli operatori del centro delle famiglie e i Focus Group avevano una finalità ovvero accompagnare i partecipanti e identificare le aree di miglioramento dei propri servizi alla luce dei 5 principi del Family Impact. Sulla base quindi dei risultati dei Focus Group è stata redatta la checklist da somministrare a tutti gli operatori implicati nel progetto Porta Aperte da utilizzare come strumento di autovalutazione. I risultati principali derivati dai Focus Group riportano l'importanza di valorizzare la corresponsabilità educativa tra genitori e agenzie di socializzazione, accompagnare i genitori nei momenti critici, rafforzare le loro competenze genitoriali, nonché aumentare le competenze interculturali per quanto riguarda il principio della diversità, rafforzare la rete tra i servizi per agganciare le famiglie e soprattutto organizzare e presidiare gli spazi di aggregazione spontanea. Dai risultati emersi dai Focus Group abbiamo quindi strutturato le checklist che sono state poi somministrate agli operatori coinvolti. Come si può vedere dal profilo, principalmente erano educatori pedagogisti e psicologi, non sono mancati tuttavia anche i volontari più in riferimento alle parrocchie coinvolte. Per ogni principio sono stati identificati degli item specifici e le persone dovevano indicare quanto su un punteggio da 1 a 5 si sentivano di aver aiutato le famiglie e i genitori a essere responsabili. La responsabilità poi era declinata in diverse dimensioni. Nel concreto rispetto al principio della responsabilità gli operatori si sono appunto collocati su punteggi medi per quanto riguarda la loro capacità di sostenere i genitori nel loro ruolo, quindi nei compiti affettivi normativi e soprattutto per ingaggiarli in compiti semplici, concreti e facilmente realizzabili poi per prendersi cura della famiglia e dei figli. Per quanto concerne il principio della stabilità, gli operatori hanno riportato dei valori più alti sugli aspetti che riguardano la capacità di comunicare efficacemente le problematiche del bambino rilevante durante appunto le attività professionali, quindi in caso di diagnosi specialistiche, l'importanza quindi di prevenire prima appunto che le crisi diventino problemi cronici e soprattutto essere un punto di riferimento costante nel tempo per le famiglie del progetto. Per quanto concerne invece il principio delle relazioni familiari, gli operatori si sono appunto collocati sempre su valori medi rispetto alla loro capacità di sostenere i genitori nell'acquisizione di competenze genitoriali positive, non solo sulle madri ma anche lavorando sui padri e rassicurare appunto emotivamente i genitori di fronte ai problemi dei propri figli. Per quanto riguarda il principio della diversità invece gli operatori si sono collocati con punteggi medio-bassi, quindi a dire di una necessità di lavorare ancora su questo principio, tra gli indicatori più alti appunto ritroviamo la loro auto-efficacia nel lavorare con le famiglie con bisogni speciali, invece per quanto concerne il principio del coinvolgimento gli operatori si sono sentiti più capaci di strutturare e presidiare spazi informali per le famiglie, coinvolgere i nonni e le nonne appunto nelle attività e coprogettare gli interventi con le stesse famiglie. Ci sembra interessante porre l'attenzione su alcune dimensioni, la prima è il fatto che le Family Impact Checklist possono essere un valido strumento metariflessivo con cui accompagnare gli operatori nelle proprie pratiche di intervento sociali e anche nella riprogettazione delle azioni degli interventi. Sono sicuramente uno strumento importante che permettono anche la promozione di una cultura operativa al familiare proprio perché è basato su un processo metariflessivo e anche di auto-apprendimento anche dei propri errori e del proprio expertise e in ultimo appunto prevedono una partecipazione attiva degli operatori alla valutazione che quindi non è calata dall'alto ma imposta ma quanto più possibile condivisa. Le future azioni sono quindi la somministrazione della survey che è stata avviata, somministrata in un T con zero all'inizio del progetto proprio per valutare anche l'impatto delle azioni di Porta Aperte sulle famiglie. Abbiamo terminato qui la nostra presentazione e vi ringraziamo per l'attenzione.